Silvia Sardone, intervistata da Bianca Berlinguer, la distrugge malamente sul tema delle proteste di Corvetto ed oggi appunto siamo qui per andare ad analizzare questo video ma prima di iniziare io mi presento, sono Massimo Salvati e vi do il benvenuto su Speedy News Prima di iniziare nuovamente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campbellina, lasciare un bel mi piace e un commentino alla fine del video per farmi sapere cosa ne pensate inoltre se volete supportarmi ulteriormente vi ricordo che è possibile abbonarsi detto ciò non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il video al momento abbiamo tre carabinieri indagati e un solo ragazzo arrestato per aver messo a ferro e fuoco il quartiere di Corvetto per due sere consecutive quindi uno può praticamente distruggere un quartiere, incendiare gli autobus, incendiare i citofoni, fare gli scontri e il risultato, il saldo è un ragazzo arrestato, mi sembra un po' poco invece dall'altro lato ci sono tre carabinieri indagati che non sono neanche rinviati al giudizio ma per i quali per alcuni c'è già la sentenza scritta ora scusatemi, che messaggio vogliamo far passare? questi ragazzi non si sono fermati ad un posto di blocco cosa doveva fare i carabinieri se non inseguirli? io sono fieramente e convintamente dalla parte delle forze dell'ordine non solo perché qualsiasi racconto che possiamo leggere anche quello più pessimista dice che se c'è stato un contatto non è stato volontario ma a prescindere da tutto ciò, cosa devono fare? cioè è normale che i carabinieri si mettano ad inseguire? non è normale che i ragazzi non si fermano nel blocco? ma è normale che si chieda di cancellare gli onorevole stagione? è normale che si chieda un testimone? non è normale che la gente prenda le strade in contromano per scappare dai carabinieri e diciamo tra i rischi c'è che tu possa cadere ovvio che non sto giustificando un morto ho sentito parlare di tutto ho sentito parlare di disagio sociale e mancanza di lavoro periferie allora quella roba lì qua nel corvetto non c'è nel senso che il corvetto non è a Milano vi informo guardate i dati i tassi di disoccupazione e quello frizionale cos'è quello frizionale? vuol dire che la differenza tra scusatemi finisco tra chi chiude finisce un lavoro e ne trova un altro poi c'è chi non vuole trovare un lavoro perché chi va voglio dire a spacciare droga quindi tutti quelli che non lo trovano non lo va vabbè allora diciamo che sì esiste anche gente che ha perso il lavoro e non ci può fare niente per carità però è da dire che questi ragazzi non hanno vissuto né il disagio sociale né nient'altro come se stronzate che spara la salis o robe del genere perché quelli basta guardare un attimino e c'hanno un T-Max c'hanno un T-Max che hanno utilizzato per scappare vestiti fermati dalla testa ai piedi con le collane d'oro a me non risulta che gente che va vestita in questa maniera vive precariamente il disagio sociale a me risulta che questi vogliono fare i criminali non che vivono il disagio sociale diciamolo sinceramente quindi assolutamente no assolutamente mi sento di contrattire Bianca Berlinguerra assolutamente perché su questo proprio non ha capito niente è un modello che forse qualcuno vuole portare avanti non è un modello adesso ci arriviamo il corvetto non è periferia siamo a un quarto d'ora dal Duomo vabbè che vuol dire non è che se sei a un quarto d'ora dal Duomo non è periferia io abito in estrema periferia forse sono l'unica qua dei presenti nella trasmissione ad abitare in estrema periferia e ci abito da quando sono nata continuo ad abitarci adesso quindi penso di conoscere bene la situazione il tema è che c'è un continuo giustificazionismo portato avanti soprattutto dalla sinistra va bene che adesso cerca di criminalizzare i carabinieri per non parare delle conseguenze delle politiche di immigrazione portate avanti alla sinistra in tutti questi anni Camminano, governo strada la sinistra, governo onorevole abbiamo 40 minuti se lei mi esaurisce tutto nel primo intervento non ne usciamo io voglio sentire anche Saif su questo però le voglio fare una sola domanda mi dica sì o no poi tanto ci arriviamo al disagio delle periferie non solo di Milano perché anche di questo vogliamo parlare però lei dice non si è fermato all'alt è normale che tre macchine dei carabinieri lo abbiano rincorso pur sapendo che uno dei tre ragazzi aveva perso il casco quindi se fosse caduto mi sarebbe naturalmente fa però io quello che le voglio chiedere è normale che si chieda di cancellare un video a un ragazzo che è un testimone e che ha ripreso il momento dell'incidente lei lo trova normale questo perché forse se accadeva a qualcuno un po' più avvertito perché questo ragazzo chiaramente in qualche modo si è fatto intimidire come è ovvio che sia perché forse se accadeva a qualcun altro diceva no io il video non lo cancello perché comunque lo consegno direttamente in procura poi sarà la procura a stabilire diciamo l'accertamento dei fatti questo mi sembra un comportamento corretto al di là del fatto che naturalmente nessuno di noi si metta a fare le azioni su che cosa è successo e cosa non è successo perché questo è quello che anche la politica dovrebbe dire cerchiamo la verità dei fatti e quindi diciamo che delle cose sono giuste ma altre sono sbagliate non trova? Ma mi scusi lei fa il giudice Allora prima di andare avanti e sentire la risposta io volevo dire solo una cosa a maggior ragione se hai perso il casco uno ma che cavolo del ragionamento è lasciare andare uno un fuggitivo perché chiamiamoli così lasciamo andare i fuggitivi perché hanno perso il casco cioè è lo stesso ragionamento allora lasciamo andare un assassino perché è salito in moto senza casco e se accade si potrebbe fare male ma che vuol dire? ma che significa? ma che ragionamento del cazzo è? cioè ma ci rendiamo conto veramente le basi proprio poi che venga testo venga chiesto a un testimone di cancellare il video ovviamente è sbagliatissimo è sbagliatissimo significa che ovviamente qualcosa sotto c'è io non lo non lo nego però però se si viene a sapere che questo video è stato cancellato significa che il ragazzo che ha cancellato il video non era così tanto intimorito alla fine tutt'altro perché altrimenti se era intimorito non andava a dire che lui aveva un video ma l'ha cancellato non succedeva così se era veramente intimorito da chiunque l'abbia minacciato questo non sarebbe successo ma anzi sarebbe stato zitto con la bocca chiusa per evitare ripercussioni quindi se poi viene a fare la morale Bianca Berlinguer dicendo che il ragazzo intimorito ha cancellato il video pressioni dai su scusate non te lo veniva neanche a dire non usciva neanche fuori questa storia se era veramente intimorito lui ha cancellato il video perché evidentemente ne traeva un guadagno personale e poi ha fatto comunque il restante insomma la restante parte quindi significa che anche questo diciamo non è tanto l'idea chiare su quello che è successo altrimenti altrimenti non avrebbe denunciato il fatto e se avesse denunciato il fatto l'avrebbe fatto con il video ma dato che questo video non ce l'ha significa il video poi alla fine non è che testimoniava così tanto o sbaglio detto ciò sentiamo la risposta di Sardone dice questo è un processo televisivo no io le sto facendo una domanda lei può rispondere come vuole perché se nel video c'era il filmato a un ragazzo morto io sono contenta del fatto che i carabinieri abbiano chiesto di cancellarlo quindi dato che ne io ne lei sappiamo che cosa c'è nel video io trovo indegno un processo televisivo fatto nei confronti dei carabinieri quando nulla si dice sugli scontri che ci sono stati al corvetto in cui ripeto un solo ragazzo è stato arrestato allora perché non parliamo degli scontri del corvetto non gridi invece di parlare solo dei carabinieri brutti e cattivi perché non vi fa comodo perché non vi fa comodo perché non vi fa comodo raccontare che il modello di integrazione che la sinistra ha da sempre diciamo portato sull'altare ha è ovviamente fallito è totalmente fallito mi fa sentire Saif però adesso perché sennò parla sempre questo è l'intervento in questione cioè molto caotico molto caotico ma molto interessante e ovviamente io devo dare ragione a Silvia Sardone anche se la situazione del video cancellato è un po' puzzolente ecco se così vogliamo dire però io credo che se effettivamente il video testimoniasse qualcosa e il ragazzo l'ha cancellato ok si è stato intimidito ma se fosse stato veramente intimidito io ripeto non sarebbe poi uscita fuori questa storia di conseguenza è affidabile e non affidabile questo punto di vista cosa ne pensate sono curioso di sentire la vostra opinione nei commenti detto ciò io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video alla prossima ciao ciao Grazie a tutti